Sono stati annunciati nella sede della Presidenza della Regione Toscana i nomi dei vincitori del Premio Modigliani 2019, riattivato dopo 52 anni e promosso dal Comune di Livorno con Regione Toscana, Direzione Scientifica del Centro per l'Arte Contemporanea Pecci di Prato e il sostegno del MIBAC. Si tratta di Ludovica Carbotta, Alex Cecchetti e Adelita Usnibei. Qui diamo la possibilità a dei giovani artisti, è molto importante e questo testimonia anche la grande attenzione che la Regione Toscana ha sui temi dell'arte contemporanea. Obiettivo del Premio valorizzare di nuovo la ricerca artistica contemporanea e incrementare la collezione d'arte della città di Livorno. E va in quella direzione che stiamo cercando di dare alla città, quindi di rimetterla in un circolo più ampio di relazioni e questo naturalmente ha sempre a che fare con l'arte anche. Nel corso della presentazione a Firenze è stato ricordato che cinque selezionatori hanno indicato due artisti ciascuno e ciascuno dei dieci artisti selezionati ha proposto due opere per un totale di 20 sottoposte alla giuria, un evento che coincide con un importante anniversario. Il 2020 è il centenario della morte di Amedeo Modigliani, quindi è una maniera di ritornare a Livorno come città d'arte e di artisti e di tornare anche a rafforzare le collezioni pubbliche. Questo è un tema estremamente importante credo oggi perché l'arte italiana delle nuove generazioni deve essere raccolta e testimoniata dalle nostre collezioni pubbliche. Le opere vincitrici saranno esposte in una mostra collettiva proprio in occasione del centenario della morte di Modigliani.